Sembrano tre persone, una incappucciata. Stiamo andando a direzione via Uola Nappa adesso. Ora siamo entrato via Trabucco, in direzione Cervello. Mercurio acceso, Mercurio acceso. Stanno salendo a Baira, a Pia, Giovanna Assista, Palumbo. Piano, piano, piano. Stanno salendo a Baira, mi vengo in contatto a Razzarato. Ritentre con la posizione. Via BC4, via BC4. Tra la senza uscita, non è boccato. Tra la senza uscita, non è boccato. Stacci lontano, stai lontano. Via Cappellani, via Cappellani. Vai piano, vai piano, vai piano. Vai piano, vai piano. Via BC2! Fermo il fuoco, fermo il fuoco! Salendo, salendo la piazza Pietromicca, la prima traversa sulla destra. all'ecstomano. Allo che si, però, se spiegare il fuoco. Allo che si, mi sembrava, puoi, puoi. La prima volta, puoi! La prima volta, puoi! Mi sembrava! La prima volta, puoi! Allo che si, a la prima volta. Allo che si, a la prima volta. E lo nell'arrivo! Allo che si, a la prima volta!